Quando Ule compì sei anni, ricevete dal padre un paio di sci nuovi. Non aveva mai avuto sci veri prima di allora. Potete quindi immaginare quanto desiderasse provare i nuovi sci. Ma l'inverno si faceva aspettare e anche se era caduta un po' di neve, era sparita con la stessa velocità con cui era arrivata. Ule continuava a chiedersi se l'inverno sarebbe mai arrivato e alla fine arrivò. Un paio di settimane prima di Natale cominciò a cadere la neve a grandi fiocchi. Nevicò per ben due giorni e due notti e tutto fu coperto di bianco. Quando arrivò il terzo giorno, il cielo era blu e la neve brillava. Ule era così felice. Si vestì velocemente. Probabilmente alcuni vestiti li indossò anche al contrario. Disse che sarebbe uscito subito dopo colazione per andare nel bosco. Quindi buttò giù in fretta una tazza di porridge con latte e poi andò dalla mamma per finire di prepararsi. Lei gli infilò giacca, guanti rossi e un panino in tasca. Ule mise i piedi su ai nuovi sci, salutò amorevolmente con la mano la mamma e il fratellino e si avviò verso il bosco. Ah, quanto gli piaceva il bosco! E più si addentrava, più lo ammirava in tutto il suo splendore. Era tanto bello che pensò di essere entrato nel regno magico di re inverno e a voce alta lo nominò per ringraziarlo. In quell'istante apparve davanti a lui un vecchietto, tutto bianco dalla testa ai piedi. Ule lo salutò e gli chiese se fosse re inverno. Egli rispose di no, disse di essere lo zio gelo. Ti piace come ho imbiancato e addobbato tutto il bosco? Zio gelo chiese a Ule, il quale stupito per la bellezza e senza parole fece sì con la testa e gli chiese se poteva mostrargli come avesse fatto ad imbiancare tutto. In quello stesso istante zio gelo soffiò sulla giacca di Ule e dalla gola gli uscì una nuvola di ghiaccio bianca che si posò sulla giacca, la quale venne coperta di brillantini di ghiaccio. Ti va di venire con me dare inverno? chiese zio gelo. Ule accettò volentieri e lo seguì nel bosco. Mentre camminava improvvisamente il bambino sentì un solletico al naso e cominciò a sternutire. Si sentì i piedi bagnati e si accorse che i cristalli di ghiaccio sulla giacca si stavano sciogliendo. In quello stesso momento vide una bizzarra vecchietta passeggiare nel bosco. Camminava a passo lungo e aveva uno strano paio di scarponi bagnati. Portava una scopa sulla spalla e un umbrello in mano. Doveva essersi presa un bel raffreddore poiché si soffiava continuamente il naso. Ma chi poteva essere? In quell'istante zio gelo le si avvicinò e con voce cattiva la sgridò e le disse di andare via e di non rimettere il naso tra quei boschi fino all'arrivo della primavera. Poi soffiò un vento ghiacciato contro la vecchietta la quale scappò via di corsa e dalla fretta perse la scopa. Ule rimase meravigliato e si chiese come mai zio gelo fosse tanto villano con la signora. E zio gelo spiegò. Guarda non c'è niente che mi fa arrabbiare più della signora sgelo. Questo è il suo nome. Vedi dove passa lei ghiaccio e neve si sciolgono. Noti tutto il ghiaccio sciolto? Lei arriva a inizio primavera per aiutarci a sciogliere tutta la neve ma a volte non vuole rispettare le stagioni e si presenta in pieno inverno. Basta perderla un pochino di vista e lei compare subito. Zio gelo gli mostrò il disastro che combinava laddove passando faceva sciogliere il ghiaccio e la neve e poi con un soffio riportò tutto gelato e bianco come prima. Ule che amava l'inverno desiderava che la vecchietta se ne stesse lontana a quel punto e per fortuna zio gelo era riuscito a spaventarla per bene così non sarebbe più ritornata per un bel pezzo. Il viaggio non era ancora finito. Dopo un po' arrivarono ad un portone con delle bianche sbarre di ferro ricoperte tutte di ghiaccio. Passarono il portone ed entrarono in una grande sala nella quale re inverno stava seduto proprio al centro sul suo trono elevato con due trichechi ai lati del trono. Al ragazzino sembrava quasi di tremare a causa di quello sguardo serio. Re inverno iniziò a parlare con Ulle e gli chiese se fosse bravo ad andare sugli sci e poi gli chiese se avesse anche pattini e slitta. Lui rispose che purtroppo non aveva né pattini né slitta. Poi re inverno lo invitò a visitare il suo magnifico castello di ghiaccio ed egli acconsentì. Il castello era pieno di stanze con le pareti e i soffitti di neve battuta. Al centro della prima stanza c'era un fuoco e il fumo usciva da un buco nel soffitto proprio come nelle casette lapponi. Intorno al fuoco c'erano seduti dei piccoli nanetti che lavoravano. Alcuni cucivano scarponi, altri facevano dei calzettoni. Lavoravano in fretta e non alzarono nemmeno lo sguardo. Nella stanza seguente sedevano dei nanetti che lavoravano a maglia e facevano dei guanti di lana e ci ricamavano sopra delle roselline. Alla stanza seguente invece sembrava una falegnameria. Lì costruivano sci, slittini e slittini sui pattini. Il lavoro veniva fatto con grande velocità. In quel momento suonò la campanella della pausa e tutti uscirono. Ulle li seguì. Fuori tutti volevano giocare con lui per mostrargli le acrobazie che sapevano fare con gli sci e con i pattini. Per prima cosa presero i pattini e partirono. Tutti giù in discesa. Alcuni aiutarono Ulle a mettere i pattini e ad andare con loro. Poi costruirono insieme un bel pupazzo di neve e anche un castello bianco per giocare alla guerra delle palle di neve. Alla fine legarono tutti insieme gli slittini uno dietro l'altro e partirono giù in discesa. Proprio mentre si stavano divertendo sentirono il suono della campanella e corsero tutti dentro per riprendere il lavoro. Ulle rimase solo fuori sulla neve, accaldato e con le guance rosse, ma non si era mai divertito così tanto. In quel momento arrivò Reggelo, legò gli sci ad un'arena e chiese a Ulle di salire dietro di lui. Reggelo lo riportò verso casa, passando tra i boschi dove d'estate il bimbo raccoglieva lamponi e mirtilli. Al margine del bosco Reggelo lo salutò. Ulle ritornò a casa pieno dei ricordi della sua meravigliosa avventura. Era talmente pieno di gioia che non riusciva a trovare il tempo di mangiare. Avrebbe voluto raccontare tutto d'un fiato. Nei giorni seguenti trovò due pacchetti regalo davanti alla porta di casa. Erano pattini e slitta e lui sapeva bene chi li aveva mandati. Quell'inverno Ulle poteva usare i pattini, gli sci e anche la slitta per tanto tanto tempo, poiché Reggelo aveva spaventato la vecchietta sgelo così tanto che non si fece vedere per un bel po'. Solo a tarda primavera, quando Re Inverno con tutto il suo regno migrò al polo nord, la vecchietta arrivò. Il ghiaccio si trasformò in nevischio e lei rimase fino a quando non si sciolse tutto. Cominciò a piovere e tutti presero il raffreddore. Ulle si arrabbiò molto con la vecchietta sgelo perché lui amava la neve. Ma poi, un bel giorno, la principessa primavera apparve, seduta nella sua carrozza dorata, trascinata da farfalle bianche. La vecchietta sgelo si inchinò a lei, felice di vederla. Per la prima volta Ulle apprezzò la vecchietta sgelo e pensò che non fosse poi così tanto sciocca. Doveva solo imparare a rispettare le stagioni degli altri. Anche lui imparò che ogni stagione ha i suoi doni da offrire.